signori bentornati sul canale allora ho ricevuto abbiamo ricevuto in queste settimane tantissime delle vostre storie vi avevo mandato una newsletter dicendo ok ragazzi che ruolo avete all'interno della vostra vita della community che lavoro fate che esperienze avete ci sono tantissimi ragazzi all'interno della community no just wine che sono molto giovani promettenti grandi talenti che hanno delle abilità importanti e che magari non si fanno vedere tantissimi di voi ci scrivono è un messaggio proprio che lo riceviamo ogni settimana quanto mi sarebbe piaciuto partecipare al bootcamp quanto mi sarebbe piaciuto partecipare alle masterclass quanto mi sarebbe piaciuto entrare nel patreon tutte secondo me scuse che vogliamo trovare quando effettivamente se ci interessa qualcosa la andiamo a fare il discorso che faccio sempre con matte e lui ha le stesse vedute mie su questo argomento è che se veramente vogliamo ottenere qualcosa se veramente vogliamo ottenere un risultato e la versione migliore di noi stessi ci lavoriamo e investiamo io e matte lo abbiamo raccontato varie volte nel 2018 abbiamo investito 10.000 euro su no just wine facendone tornare 5 ci abbiamo perso 5.000 euro per poi l'anno dopo arrivare a 55 60.000 euro di fatturato utili netti quindi abbiamo investito nella nostra formazione quando mi chiedete ragazzi io non posso partecipare al bootcamp perché non ci sono forse di qua di là anche alla masterclass avrei veramente voluto partecipare ma non ce l'ho fatta e tantissime volte sono persone che seguono i sondaggi seguono la newsletter ti scrivono che non vedono l'ora di arrivare esce il prezzo bam fine non si fanno più vedere e questo è un problema ragazzi è un problema del marketing è un problema del mercato saper vendere è qualcosa di davvero complicato perché una persona quando riceve un'inserzione un input di vendita si ritrae cerca di proteggersi wow 120 euro per una masterclass no sono tantissimi in questo momento non posso spendere 120 euro per una masterclass quando magari non si pensa che il prezzo effettivamente è bassissimo ed è bassissimo ve lo assicuro e poi ha il miglior somiglio del mondo che ti sta insegnando ecco questo a volte ce lo si dimentica come il bootcamp il bootcamp ha avuto un prezzo molto alto 250 euro ma per gli iscritti alla newsletter per gli iscritti agli amici stretti erano solo 150 euro abbiamo provato così una manovra di marketing ed è stato davvero difficile perché alla fine in un numero chiuso come 20 persone wow le vendite si sono protratte per settimane è stato davvero difficile vendere il bootcamp era qualcosa di nuovo qualcosa che la gente magari non capiva e no già stai non era ancora ai livelli di adesso cosa posso dirvi però ragazzi che ogni volta che ci scrivete delle mail sul avrei voluto partecipare vorrei partecipare ci scrivete anche per favore continuate a darci dei contenuti gratuiti o comunque continuate a darci delle piccole tips dei piccoli tips dei dei consigli per chi magari non può partecipare o perché viene da lontano scelta giustissima ci sono ragazzi che ci seguono dalla sicilia dalla campagna dalla puglia dalla carabria che non hanno la possibilità di venire a tutti gli eventi e quindi loro li capisco capisco magari meno i ragazzi che sono emiliani lombardi piemontesi veneti toscani che ci dicono ragazzi quanto vorrei partecipare peccato che magari 120 euro di masterclass con ero steboni migliore sommelier del mondo sia un prezzo troppo alto no non lo sono ragazzi davvero e poi magari matte vi può parlare di questo cosa succede che noi lo abbiamo sempre detto con la community siamo super aperti e formiamo ogni giorno ecco perché alcuni di voi ci scrivono grazie grazie che ci formate grazie che ci date valore è ciò che facciamo è ciò che ci piace fare e poi soprattutto non lo facciamo per la gloria il dare valore alle persone il darti valore in questo momento fa sì che tu possa essere più attratto da ciò che no just wine ti propone perché sai e hai le prove visive coi fatti che no just wine ti vuole effettivamente aiutare e ti può portare a migliorarti quindi ovviamente noi continueremo a dare del valore consiglio intanto a tutti i ragazzi che vogliono approcciarsi al marketing approcciarsi al implementare le proprie competenze vinicole al crearsi un ecosistema attorno di inserirsi nel patreon perché molte volte ragazzi non capite questo quando ci scrivete che non sapete bene cosa fare non sapete bene qual è la vostra strada non capite alcune cose eccetera eccetera quello che io vi dico è con chi passate del tempo mi spiego meglio su business genetics la community di dario vignali marketers dove ora sto dando del valore approcciandomi ai ragazzi agli studenti portando dei contenuti video alcuni mi chiedono wow luca ma come hai fatto a portare no just wine a dei livelli così importanti e io dico sempre ho studiato mi sono formato seguito dei corsi eccetera eccetera e loro mi chiedono sì ma qualche altro segreto gratuito e io ho detto guarda se non vuoi formarti se non vuoi spendere informazioni in corsi eccetera molto difficile ma c'è qualcosa che puoi fare gratuitamente puoi condividere del tempo puoi condividere uno spazio con delle persone e se queste persone sono amministratori delegati direttori dirigenti d'azienda che muovono importanti moli di mercato e di denaro possono sicuramente aiutare il tuo mindset a crescere cosa succede che no just wine nel 2018 2019 ha conosciuto tantissime aziende importanti bellucchi bella vista lamole di lamole non so non me ne vengono in mente altre ma erano sono tantissime la stessa montelvini signor vino calzedonia group veronesi group lunelli ferrari eccetera eccetera abbiamo conosciuto tantissime tantissime persone e passare del tempo con determinate figure porta il tuo mindset ad elevarsi sicuramente oltre la soglia di comfort questo perché se tu fai un podcast con camilla lunelli e oltre a quelli 30 minuti registrazione passi un'ora e mezza due ore con camilla lunelli parlando del più e del meno anche parlando del più del meno il tuo il tuo stato mentale si modifica e inizia a parlare in un certo modo a guardare le cose in un certo modo a lavorare in un modo diverso e quindi quello che vi dico è ragazzi entrate all'interno di un ecosistema entrate all'interno della community non just wine se volete cambiare le cose se volete imparare di più se volete se volete creare la dimensione nuova e la figura nuova del vostro essere contornatevi di persone importanti ma anche di ragazzi che la pensano come voi che hanno entusiasmo che vogliono far bene perché il patreon funziona il patreon non è qualcosa di incredibilmente pazzesco il patreon è un gruppo di ragazzi alla quale noi facciamo un po di formazione diamo valore assolutamente che hanno grandi sconti sugli eventi offline ma che sono un gruppo unito che impara ogni giorno essere all'interno del patreon significa essere con ragazzi che amano il vino che amano il marketing la comunicazione che vogliono diventare imprenditori che vogliono diventare figure importanti che vogliono la versione migliore di loro stessi e essere all'interno del patreon ti dà degli stimoli ecco perché i ragazzi del patreon ci danno così tante soddisfazioni perché sono all'interno di un ecosistema che gira alla velocità tripla rispetto alla community su instagram o della newsletter o del podcast o quello che è i ragazzi del patreon sono alimentati costantemente ci sono dei ragazzi del patreon che fino a luglio non sapevano neanche quale fosse la differenza tra metodo classico e charmant c'erano dei ragazzi ragazzi che abbiamo invitato alle social dinner che non avevano la minima idea di cosa significasse bere bene e che adesso ci sorprendono con ragazzi provato questo prodotto pambamma ma incredibile sanno parlare sanno comunicare quindi essere all'interno di un ecosistema che ti automotiva fa sì che tu possa portare le tue competenze a migliorarsi quindi quando ci scrivete e ne abbiamo ricevute tantissime mail così quando ci scrivete se possiamo darvi del valore gratuito oltre ai nostri eventi che non sono sempre fruibili quello che vi posso dire io è entrate nel patreon anche con un basic anche con 3 euro e 50 al mese entrate con un abbonamento che veramente è ridicolo ragazzi costa costa come circa poco più di due caffè al mese è una cosa folle infatti dovremmo alzarlo no in questo momento è un discorso davvero serio ragazzi 3 euro e 50 al mese per entrare all'interno di un ecosistema e wow aprire la propria visione la propria testa ci sono ragazzi che sono entrati con il basic che dopo già solo due giorni volevano passare al super o al best perché magari il contenuto o gli sconti proposti non erano abbastanza ma se siete da se arrivate da lontano se venite da lontano c'è un ragazzo andrea andrea che saluto andrea lavora per ha lavorato per alcune aziende adesso lavora per sempre nell'ambito vino e andrea viene dalla campagna e al best che sono 16 euro al mese e andrea è un ragazzo che punta tantissimo sulla propria formazione e punta tantissimo ad ascoltare tutto guardare tutto ci segue su tutti i social cerca di comprendere qualsiasi cosa ma non partecipa agli eventi offline perché è lontano perché è lontano ma lui riesce comunque a inserirsi nell'ecosistema e a dire ok io non posso partecipare agli eventi prendo il best e mi form su tutto questo è uno spirito giusto quindi voglio concludere questo video dicendo che se ci scrivete ogni giorno consigli su come diventare persone migliori su come ampliare la vostra visione come ampliare le vostre competenze quello che vi posso dire io è oltre alla formazione a ciò che potete essere spendendo dei soldi in modo gratuito a 3 euro e 50 al mese o a 7 euro al mese dipende da che abbonamento fate entrate questo benedetto patreon contornatevi di persone e di un ecosistema vincente anche se non entrate nel patreon all'interno della vostra vita cercate di passare qua con 4 5 persone determinate del tempo formativo e del tempo utile quindi questo è il mio consiglio per tutti coloro che vogliono crescere dal punto di vista personale e professionale ci vediamo al prossimo video ragazzi